il giorno e la storia oggi è il 23 dicembre 1984 bomba nel rapido napoli milano 15 morti e centinaia di feriti 1987 nasce cnr.it il primo sito internet a dominio italiani 1979 muore peggy guggenheim commenta il fatto del giorno andrea cangini direttore del resto del carlino e quotidiano nazionale oggi ho scelto di parlare di un grande scrittore tomasi di lampedusa che scrisse un grandissimo libro il gatto perdo